Ciao, il mio nome è Michele Boschetti ma gli amici mi chiamano Nure, questa che vi presento è Miss Grey. Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere questa Internode Custom Full Frame che abbiamo appena terminato. Questa borsa è nata e studiata per chi fa viaggi abbastanza tosti, impegnativi. Abbiamo tolto la zip completamente. Molti di voi sanno che le zip sono sempre un punto abbastanza debole delle borse, il fango, la polvere, può sempre essere un motivo di rottura. Ecco che questa borsa la zip non ce l'ha più, ha una comodissima apertura a roll della parte sopra che vi dà un facile accesso a tutto quello che è il vano carico ed è quindi praticamente una borsa che nasce proprio per l'utilizzo diciamo ad vend. Questa borsa la vedete montata su questa Scottman Limited Edition, è una borsa appunto che copre l'intero triangolo e si adatta non solo a questa bici ma a molte altre. Nel sito qui sotto troverete le indicazioni e se avete bisogno di informazioni non esitate a mandarci una mail. Grazie e ciao.